Con l'isola di Santa Maria è arrivata l'allegria, con due biondi in una mattina, Margherita e Caterina. Questi splendide ragazze ridono sempre come panni, ma la loro simpatia si fa molta compagnia. Una è l'incubo dei nostri pranzi, perché divora tutti gli avanti, l'altra finge di pulire, mentre invece sta a dormire. Di una cosa siamo sicuri, che aspettano loro tanti auguri, perché compiuti 15 anni buon cuore. Ah, perché compio 15 anni, buon compleanno, Irene, Ale, Sale, Male e Giovanni. Grazie!